Quando una donna viene maltrattata, spesso non trova la forza di denunciare per tanti motivi. Ci sono anche quegli economici, il non sapere dove andare, la paura di non riuscire ad andare avanti da sola o di saper garantire una sopravvivenza per i propri figli. La rete di sostegno per le vittime però si sta rafforzando. La casa rifugio è un luogo anzitutto di protezione. Essendo la nostra struttura regionale, noi ovviamente siamo in rete con tutti gli enti, i servizi del territorio, forse dell'ordine, ospedali, servizi sociali, che ci contattano nel momento in cui c'è un'emergenza. Un'emergenza per noi è una donna che decide, sceglie di allontanarsi da casa, di denunciare il maltrattante e ha bisogno di un luogo sicuro dove recarsi per ricostruirsi una vita. Molto spesso le donne arrivano in casa con i figli, quindi all'interno della casa ci sono una serie di spazi a loro disposizione. Ogni spazio è gestito e coordinato da delle operatrici, ognuna specializzata in un'area differente. Solo a Cassino 15 le donne aiutate ed ospitate nell'ultimo anno, insieme anche ai loro bambini. All'interno della casa abbiamo ospitato circa 15 nuclei, però la nostra struttura fa da riferimento anche per le accoglienze in emergenza. Quindi quotidianamente riceviamo richieste in cui appunto ci viene chiesto di accogliere anche solo per una notte il tempo necessario per individuare delle soluzioni. È per questo che da poco abbiamo attivato con il comune di Cassino un ulteriore appartamento che sarà dedicato esclusivamente per le accoglienze in emergenza, proprio perché il numero è diventato elevatissimo. Da qui si ricomincia, con il supporto da ogni punto di vista, un aiuto che porta a trovare la forza di rialzarsi. Inizia per le donne un nuovo percorso di vita, inizia anche per i bambini e le bambine un nuovo percorso in cui hanno tutti gli strumenti per appunto ricominciare una nuova vita. Dal sostegno psicologico quotidiano all'assistenza legale, lo sportello di orientamento e inserimento lavorativo e tutta l'area minori che va ad accompagnare anche loro che molto spesso sono vittime di violenza assistita se non di violenza diretta.